Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata sono andato in missione alla ricerca dei Dromedari, il nuovo mob che verrà aggiunto nella futura versione 1.20. Vi ricordo infatti che sto utilizzando gli snapshot di questa versione per poter avere tutte le novità che pian piano verranno aggiunte. Come avrete intuito dall'ambientazione siamo arrivati nel periodo della festa di Halloween e come da tradizione anche oggi andremo a lavorare a qualcosa inerente la festa, ad aggiungere quindi dettagli alla mia già paurosa palude. Andremo a fare alcune build hacks davvero interessanti, quindi preparatevi a questa spaventosa puntata. Se vi ricordate durante questo periodo si fa vivo sempre il re delle zucche che ogni volta mi combina qualche guaio. In tutti questi anni ne ha fatte di ogni. Vi ricordate quella volta che mi ha fatto sparire parte del mondo e mi ha fatto ricominciare da capo? O quella volta che mi ha teletrasportato all'interno del mondo di Halloween e tutto era diventato pauroso? Beh ragazzi quest'anno non so che cosa abbia in mente perché è un po' che non lo vedo in giro. Quindi quello che voglio fare è andare a costruire qualcosa per lui. Qua in questa zona che vedete è ancora del tutto spoglia. Allora innanzitutto vorrei iniziare costruendo una casetta o meglio una catapecchia dove il re delle zucche potrebbe aver abitato per un po' di tempo dato che questa è la casa della strega. Quindi andiamo prima di tutto a togliere quest'albero perché dobbiamo fare spazio e poi andiamo a prendere tutto il necessario per la costruzione. Allora innanzitutto qua voglio fare la base della casetta. Non sarà grande ma dentro metteremo una build hack davvero davvero carina. Allora qua ho piazzato il primo blocco. Andiamo a mettere adesso delle fence e facciamo tutto il nostro contorno. Dato che si tratta di una catapecchia andremo a utilizzare vari tipi di blocchi in modo da far credere che questa è costruita con delle semplici assi di legno e veramente pericolanti. Poi qua andiamo a mettere ancora uno di questi quindi alterniamo questi tre blocchi e mettiamo anche i barili che secondo me dall'esterno vedete ci stanno molto bene e poi possono essere sempre utilizzati per inserire degli oggetti. Allora qua andiamo a far così mettiamo anche qua questo barile poi mettiamo ancora uno di questi e poi qua andiamo a mettere sempre la nostra fence e qua un altro di questi normali così. Questa sarà la porta d'ingresso adesso anche all'interno andrò poi a fare il pavimento. Proseguiamo qua mettendo la porta questa volta la tengo così all'esterno in modo che si apre in questa maniera secondo me ci sta e poi andiamo a fare un altro strato questa volta cambiando ovviamente l'ordine delle cose. Qui mettiamo sempre la nostra fence e qua andiamo a mettere sempre il nostro legno grezzo così perfetto. Qua andremo a mettere anzi le prendo subito delle sbarre di ferro quindi usiamo queste in modo da fare le finestre. Ne facciamo una qua e già che ci siamo le mettiamo una qua e un'altra qua sopra il barile. Poi andiamo a mettere questo così qua mettiamo un altro di questi grezzo e andiamo a a chiudere qua mettiamo un altro di questi anzi così se no non funziona anche qui lo mettiamo e anche qui lo andiamo a mettere perfetto. Allora abbiamo detto barile qua sempre rivolto verso l'alto così perfetto. Oh ci siamo andiamo a mettere le fence qua negli angoli così due e un'altra qua e quella l'avevo già messa perfetto. Come vedete da fuori ragazzi sembra fatta tutta di assi di legno poi andremo aggiungere anche magari dei bottoni dei cartelli in modo da avere ulteriori dettagli. Allora saliamo di un altro blocco quindi usiamo gli scaffolding dai così siete contenti e qua mettiamo sempre barili così ok qua sopra mettiamo sempre blocchi grezzi così anzi qua dovremmo metterne qua a fianco perché altrimenti non ci sta però non mi so se mi piace messo così poi vediamo qua mettiamo blocchi normali me ne servono altri di blocchi normali ce li ho eccoli qua un altro barile qua mettiamo un altro di questi grezzo così perfetto qua mettiamo un altro di quelli normali qua mettiamo grezzo così poi normale poi mettiamo un barile ok qua mettiamo normale poi mettiamo il grezzo e poi mettiamo qua un altro barile così perfetto andiamo adesso a creare la prima parte del tetto che faremo utilizzando le dark oak quindi non lo faremo dello stesso materiale in modo da avere un altro colore ancora sempre secondo me perché così sta bene e mettiamo questi due così qua no qua andiamo a mettere invece così qua anche e andiamo a metterne un altro qua quindi sempre due tavolette di cioccolato io lo chiamo così oramai e qua mettiamo questo così perfetto vedete che piano piano faremo il tetto il tetto sarà un po ricurvo fatto in modo strano ecco andiamo a mettere anche qua questi due andiamo a mettere questi due uno qua e uno qua e anche qua facciamo la stessa cosa mettiamo 12 e poi andiamo a mettere i nostri mezzi blocchi qua uno qua e uno qua perfetto e per ultimo andiamo a mettere questo così ci sta ragazzi vedete sta prendendo forma e non dimentichiamoci di mettere anche le fence qua nei quattro angoli della nostra casettina così ci sta proseguiamo ulteriormente mettendo uno slab qua e poi andiamo uno due tre così poi qua andiamo ancora con slab così questi uno due tre slab poi tre di questi uno due tre slab ok e altri tre di questi uno due e tre poi qua andiamo a fare una specie di tettoia mettiamo un altro di questi che mettiamo qua sopra 12 e qua mettiamo invece uno slab così e lo facciamo ovviamente in tutti i lati guardate vedete si è creato questa specie di tettoia altro strato questa volta stringiamo un pochino il nostro tetto così voilà e poi andiamo a mettere qua al centro invece altri planks quindi facciamo così i planks sono questi sì va bene ne abbiamo anche fin troppi e facciamo tutta la parte così ok perfetto rendiamo ora tutto quanto a punta quindi qua andiamo a mettere quattro planks normali quindi uno due tre quattro e poi qua facciamo invece la chiusura definitiva del tetto così mettendo quattro di questi e qua in mezzo andiamo a mettere questi qua magari chiudiamo così ora voglio fare in modo che il tetto faccia una curva in questo modo ok quindi saliamo qua ce l'ho un altro di questi scaffolding si lo metto qua perché se non riesco a salire qua sopra va bene qua andiamo a mettere un blocco normale sì quindi un planks di questo dark oak quindi così poi questi possiamo anche rivestirli così per esempio ragazzi adesso io lo faccio giusto per farvi vedere e qua per esempio possiamo mettere un bottone quindi questi saranno tutti i dettagli che poi andremo ad aggiungere dopo poi qua andiamo a fare una curva quindi mettiamo questo blocco così qua mettiamo un altro planks intero quindi di questi qua di dark oak planks ok e poi un altro di queste scale in questo modo così vedete abbiamo fatto questa curva come se fosse il cappello di una strega esatto e qua possiamo mettere per esempio una fence che facciamo subito sempre di dark oak dov'è eccola qua andiamo a fare la nostra fence così perfetto e qua ci appendiamo una campana sapete che l'ho presa l'altra settimana quando abbiamo visto il villaggio quindi ne approfitto per andare ad attaccare qui ok ho messo anche la campana eccola lì ed è arrivato anche qua il nostro venditore che sicuramente non avrà nulla da vendermi esatto però probabilmente sta cercando o di comprare o di affittare questa casa perché è un po che ci gira intorno in ogni caso le dico che non è in affitto e non c'è neanche posto per il lama quindi se ne può anche andare grazie niente ragazzi adesso vado ad aggiungere un po di dettagli mettendo altre trap door dei cartelli dei bottoni eccetera eccetera attorno a tutta la casa e voilà ragazzi abbiamo aggiunto un po di dettagli vedete bottoni cartelli poi anche queste trap door in giro a tutta la casa e anche qua sopra ho corretto un po la curvatura lì mettendo una scala invece che un blocco intero e anche di qua ho completato tutto quanto devo dire che la casetta ci sta molto molto bene e ora ragazzi andiamo a fare la prima build hack all'interno di questa casetta andremo a mettere un mostro sotto il letto una cosa davvero spaventosa sicuramente piacerà al re delle zucche quindi andiamo a rifare il pavimento innanzitutto mettendo il dark oak quindi lo stesso che abbiamo usato lì quindi facciamo il pavimento così perfetto poi qua andiamo a preparare per fare la build hack allora dobbiamo andare a rompere qua due blocchi e qua uno così qua sotto andiamo a mettere un daylight sensor che serve per mettere diciamo il l'armor stand all'altezza giusta poi qua andiamo a mettere un dispenser così qua andiamo a mettere all'interno un armor stand e poi chiudiamo con il blocco del pavimento andiamo poi ad azionare il dispenser da questa parte quindi facciamo così qua mettiamo un bottone eccolo qua e azioniamo il dispenser praticamente da questa parte vedete l'armor stand si è messo in in questa posizione che è perfetta perché possiamo andare a prendere la nostra testa di aerobrine la mettiamo guardate e ora ci mettiamo il letto qua ragazzi e guardate è bellissimo davvero spaventoso tra l'altro davanti alla porta così ci sta un sacco poi andiamo a fare giusto due decorazioni qua mettiamo un paio di candeline che poi andiamo a accendere qua mettiamo una catena appesa e qua possiamo mettere delle ragnatele così qua direi che possiamo anche chiudere e ci siamo questa la togliamo perché le due candele dovrebbero bastare mamma mia ragazzi chi apre la porta si trova proprio aerobrine sotto il letto davvero bellissimo ora che abbiamo fatto la casetta voglio aggiungere un altro dettaglio qui utilizzando una build hack che sicuramente conoscete cioè quella della tomba aperta andiamo ad aggiungerla quindi qua sotto quest'albero che secondo me ci sta bene andiamo quindi a scavare qua e a modificare un pochino tutto alla parte qui con questi blocchi qua quindi mettiamo la moss brick poi mettiamo per esempio la course dirt questa qua così qua mettiamo un altro brick di questi poi mettiamo un'altra di queste dirt insomma andiamo a fare un po' di decorazione qua e qua a fianco andiamo a creare la lapide dunque aspettate che vado a fare delle scale di andesite ok 8 dovrebbero bastarmi ma ne faccio una in più così siamo sicuri perfetto adesso andiamo a mettere quindi due scale così quindi una così una così qua andiamo a mettere una così e un'altra la mettiamo qua così e qua sopra altre due così e così e abbiamo fatto questa croce poi qua andiamo a fare la build hack che conoscete utilizzando i questi qua i leggi che mettiamo in questa posizione di qua e di qua per far sembrare appunto che la tomba si sia in qualche modo aperta e poi procediamo mettendo altri di questi blocchi qua mettiamo questo qua mettiamo uno crack ed per esempio così va bene qua un altro di questi qua sempre con queste e mettiamo anche in giro delle candele magari ne mettiamo tre qua due qua altre tre altre due qua e abbiamo fatto anche la nostra bellissima lapide poi andrò ad aggiungere altri dettagli magari intorno e ora un'altra build hack che però non conoscete la prossima build hack ragazzi voglio farla su quest'albero perché voglio prendere un ragno che sta scendendo ovviamente non possiamo utilizzare un ragno di minecraft lo dovremo creare utilizzando dei blocchi e direi che queste sono le cose più utili che possiamo utilizzare allora qua facciamo una catena che servirà per appendere il nostro ragno qua andiamo a mettere della blackstone anzi sotto la catena non qua ok qua così poi andiamo a fare le zampette del ragno ok quindi mettiamo questo qua anzi questo lo appoggiamo qua così e un altro lo mettiamo qua così qua ci mettiamo una testa così e qua sotto andiamo a mettere queste vines che però andiamo a stoppare in modo che facciano le zampette e nascosto qua dentro in mezzo alle foglie magari poi dopo aggiungiamo anche qualche ragnatela ci sta ragazzi ci sta sembra qualcosa che assomiglia un ragno certo come sempre dobbiamo avere un po di fantasia ma minecraft è fatto così ragazzi quest'anno il re delle zucche non si è fatto vedere però voglio comunque rappresentarlo in qualche maniera all'interno del mondo quindi lo andremo a mettere all'interno di una bara ragazzi e sì e sì costruiamo anche quella allora mettiamo qua un blocco e poi mettiamo questi dark oak 1 2 e 3 così e togliamo questo blocco e costruiamo la nostra bara quindi facciamo così e mettiamo poi queste trapdoor qui per fare la cassa completa in questa maniera e anche qua sopra ok 1 2 3 e poi ne servirà un'altra qua dietro adesso poi la vado a fare e qua a fianco ragazzi dobbiamo fare quelli che trasportano questa bara e mi è venuta in mente la famosa coffin dance che andava tanto un po di tempo fa come meme e possiamo rifarla qua quindi mettiamo 6 armor stand così naturalmente dovrò andarli aiutare tutti quanti per mettere in una posizione tale che possano trasportare la nostra bara così perfetto andremo poi a mettergli queste teste qua bellissime e ovviamente gli faremo anche le braccia così in modo che possano poi trasportare questa questa bara in qualche maniera e adesso ragazzi vado a fare tutto questo off camera nel frattempo sta diventando notte e al risultato terminato vi farò vedere e finalmente in questa atmosfera abbastanza inquietante andiamo a vedere la nuova zona ragazzi allora procediamo da questa parte ho cercato di aggiungere anche un po di luci perché appunto dobbiamo intravedere le cose vi faccio vedere che qua dove c'è il ragno ho messo anche delle ragnatele qua sopra e l'effetto ci sta poi ho aggiunto un bel po di dettagli attorno a questa tomba vedete ho messo delle ossa ho aggiunto questi pot ho messo anche questo teschio insomma ho cercato di dettagliare un po di cose e qua abbiamo la bara del nostro re delle zucche ragazzi guardate qua tutti questi personaggi che la stanno trasportando e attenzione perché se l'aprite c'è una sorpresa quindi dovete stare molto attenti infine anche qua ho aggiunto un pochino di cose giusto per illuminare e qua dentro abbiamo il nostro letto con la testa di aerobrine queste candele bastano a non far sponare mob all'interno quindi siamo tranquilli e questa è la nuova zona dedicata al re delle zucche e dunque ragazzi siamo giunti anche oggi al termine di questo episodio spero vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un like iscrivetevi al canale e venitemi a trovare questa sera in live su twitch il link come sempre lo trovate in descrizione a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio